Si chiama Sayad Garibi, è un ragazzo di 24 anni di età proveniente dall'Iram, il quale grazie alla impressionante corporatura sta diventando famoso in tutto il nostro pianeta. Il giovane infatti è un bodybuilder professionista, ha un peso di 152 kg e pensate che riesce a sollevare fino a 175 kg compressivi su Instagram, il social network di Foto tra eccellenza, la sua fama, il suo successo, la sua, chiamiamola popolarità, è un continuo crescere, è un continuo crescendo con quasi, pensate, 70.000 follower che lo seguono grazie proprio all'amore di quest'uovo, al suo corpo così abbiorne. Vi ringrazio per l'ascurto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate, fatevi sapere che pensate, ed un caro saluto a voi.